... Santa Maria, Madre di Dio, prea per noi e per noi, per essere nuova per la nostra morte, amore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e al Dottor Filio Santo. Gloria al Padre, al Figlio e al Dottor Filio Santo. Noi ci affidiamo a te, nostro unico Salvatore. Il tuo Spirito, offre in noi quella salvezza che qui in terra è comunione con te, per introdurci nella nuova opportunità in Celesse, tu che vivi e vivi nei secoli dei secoli. Amo. Lasciamo qualche istante di ripresione per suonare, mentre la gamba da barriere suona. La gamba da barriere suonare, 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 va, succomando, la gamba da barriere suonare, ma perché la gamba da barriere suonare. her Non c'è un bel c sonsto, non c'è un piurin detto, non è un piunto, non c'è un piunto. L'acqua è un segno di vita e con l'aria e la luce è uno degli elementi essenziali del cosmo. Senza di essa la terra non sarebbe che un deserto e l'uomo, le piante e gli animali non potrebbero vivere. Nella prospettiva vita, l'acqua unita allo spirito è il trevo secondo della creazione. La pioggia purificatrice, la rugiata celeste, la figura della vita nuova in Cristo. Infine, nel sentire il reggiorno dei nostri pari, il lago di San Agnanti è segno della bellezza di Dio e l'uomo del commercio. E' un motivo pieni di benedizione e di sospita. Nel prevedimento di grazie al Signore, autore dell'Ontegno e dell'Ontegno e dell'Ontegno e dell'Ontegno. Grazie.